Benvenuta nel salotto di Romantica, un'altra bellezza, brasiliana? Cubana, carica. Allora, raccontaci qualcosa di te. Quello che ti racconto è che la prima cosa che sono contentissima è stare in Italia. Veramente molto, molto contenta perché ho potuto realizzare in questo paese i miei sogni. I miei sogni che portavo da piccola, unire tante persone di diversi paesi. E' questo. Una società multietnica, per cui propone i talenti. I talenti, se deve intendere come talenti tutto, tutto ciò che è arte, tutto ciò che riguarda la cultura. E questo è un sogno che mi portavo da piccola. E quindi, appunto, è la prima agenzia multiecnica Mosaico Casti. E ho voluto chiamarla Mosaico perché, vedi, siamo tutti un piccolo tassello. E quindi ho voluto unire da tutto il mondo questi diversi tasselli. Siano gli africani, siano gli artisti classici, siano anche gli artisti, come te posso dire, gli attori, i ballerini. Di ogni, di ogni nazionalità. Perché io dico che dentro di uno di noi, benché siamo povoli e ricoli, ci sta, e scusate il mio pezzo in italiano, c'è sempre un qualcosa di arte dentro. E questo a volte è nascosto. È nascosto perché magari è una mancanza anche di risorsa economica. Però tutti quanti, tutti quanti, fin dal più piccolo al più grande, fin dal più povero fino al più ricco, abbiamo un talento dentro e l'arte dentro. E questo è... E tu aiuti a tirarlo fuori? E io aiuto a tirarlo fuori. Allora, in bocca al lupo. Crepi. Ciao. Crepi a per lupo. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie.